Ho riferito in precedenza di come io stia leggendo un testo del sociologo Marco Marzano che si chiama La casta dei casti, in cui si vuole indagare sul rapporto che esiste fra sessualità e clero. Ora, c'è da dire che io non posso certo essere definito come una persona che tende al clericale, anzi semmai il contrario, però cerco di essere onesto e di non sparare nel mucchio tanto per colpire. Ho un grande rispetto per il sacerdozio cattolico e mi prende molta tristezza quando ne osservo le derive. Però devo anche dire di aver conosciuto molti svariati buoni sacerdoti, alcuni anche santi, persone perfettamente equilibrate e realizzate. Nel libro di Marco Marzano, però, non viene fuori questo. Sembra che ogni sacerdote sia portatore di patologie psicologiche di una certa serietà. In un punto del testo, il sociologo afferma che, cito, il profilo psicosociale tipico del seminarista medio tracciato dagli aspetti coincontrato è in definitiva quello di un giovane di modeste condizioni, spesso con una mamma molto invadente, possessiva, castrante e sessuofoba, un padre debole, assente o autoritario e violento, una personalità immatura con seri problemi relazionali, una scarsissima stima di sé e molto spesso una difficoltà spiccata ad accettare il proprio orientamento sessuale. A me sembra che il testo di Marzano parta da un serio pregiudizio che ne compromette anche le osservazioni buone che ne possono venire. Ora, che ci sono seminaristi che ben possono essere rappresentati dai profili presentati sopra, non ne dubito, come ci sono maestri, accademici e anche sociologi che sarebbero anche ben rappresentati da quel profilo. Ma riassumere in quel profilo tutti i candidati di sacerdozio cattolico è profondamente ingiusto e sbagliato. Sappiamo che ci sono problemi nei sacerdoti degli ultimi decenni, problemi di quantità ma anche di qualità. Ma non possiamo mettere tutto in un unico calderone. Marco Marzano parla molto della diffusione dell'omosessualità nel clero e indubbiamente questo è un problema reale su cui ci si dovrebbe ragionare seriamente senza continuare a nasconderlo. Però non dimentichiamo tanti santi sacerdoti, conosciuti o meno, e la gratitudine che in un modo o nell'altro tutti gli dopiamo.